La Domo con l'artista locale di Borgogna Giorgio Stefanetta ha realizzato un evento che si terrà a Domodossola presso la Sala Falcioni Ex Cappella Mellerio dal 4 al 6 dicembre. Sarà una mostra delle opere realizzate dal pittore Giorgio Stefanetta, opere grafiche dal mito allo stato d'animo. Giorgio Stefanetta ha offerto di esibire il proprio lavoro di concerto con la Domo in modo che se ci fosse la possibilità di avere qualche ricavo dalla vendita delle sue opere il ricavo verrà devoluto alle finalità della Domo. La Domo è l'associazione Donatorio Solani Midollo Osseo che opera sul territorio solano dal 1995 si occupa di sensibilizzare e promuovere la donazione di midollo osseo e di cellule staminali da cordone ombelicale. Quindi tutto il ricavato ovviamente che avremo nella mostra sarà devoluto a queste iniziative e in più avremo modo appunto di mostrare il grande lavoro di un artista locale così fantasioso e rinomato come Giorgio Stefanetta. Vogliamo dare qualche dato riguardo ai donatori? Sì, allora l'associazione dei Donatori Solani di Midollo Osseo conta iscritti per circa 1500 persone e ha 16 donatori effettivi dal 1995 ad oggi. Ricordo che la possibilità della compatibilità tra donatori non fratelli è di 1 su 100.000 quindi direi che il territorio dell'Ossola è stato particolarmente solidale diciamo siamo stati bravi in questi anni a portare aiuto a chi soffre di gravi malattie del sangue. Grazie a tutti.